Ciao ragazzi da parte di Federico Town, oggi sono qui per parlarvi della partita fra Lazio e Torino ebbene si ricomincia a vincere, prima vittoria stagionale ci voleva dopo un brutto momento, i ragazzi si sono finalmente sbloccati molto bravi, hanno giocato una buona partita però bisogna dire che ancora non è la vera Lazio e possiamo giocare ancora meglio però era una partita difficile, il Torino era stata la nostra bestia nera in questi ultimi anni l'ultima volta che abbiamo vinto all'Olimpico contro il Torino era nel 2019 abbiamo sfatato finalmente questo tabù e ha aperto le marcature Mattias Vecino bel gol al volo su cross di Lazzari, buona partita di Mattias Vecino ma i giocatori che soprattutto mi sono piaciuti di più sono stati Rovella che ha giocato la prima partita da titolare, buonissima la sua prestazione mi è piaciuto Castellanos quando è entrato ha fatto una buonissima partita ha peccato quella sforbiciata, se avesse segnato lì sarebbe stato un euro gol Isaacsen ha giocato veramente bene quando è subentrato nel secondo tempo e mi è piaciuto anche Isaacsen, quindi ho detto Castellanos, Rovella e poi c'era qualcun altro che mi è piaciuto, adesso non mi viene in mente chi fosse però ecco questa è la Lazio che vogliamo vedere più spesso speriamo che con il Milan cercheranno di ripetere questa prestazione è giocando ancora meglio il Torino è sempre una squadra difficile da affrontare ci ha sempre messo in grande difficoltà il gioco di Juric è molto difficile però i ragazzi sono impegnati bene e abbiamo raddoppiato con Zaccagni Zaccagni, ecco, Zaccagni anche lui ha giocato molto bene è tornato a fare i gol come faceva l'anno scorso ha fatto un bel gol i gol di Zaccagni stanno tornando Immobile si vede che ancora non è al meglio però sono sicuro che presto tornerà era importante comunque vincere questa partita e fare questi tre punti contro un avversario sempre molto difficile e non è mai facile quando vieni da un momento di crisi riprendere a vincere io avevo paura che la Lazio avrebbe pareggiato questa partita però diciamo che abbiamo giocato molto meglio del Torino il Torino non è che ha creato molti pericoli e siamo riusciti finalmente a tenere la porta inviolata per la prima volta in questa stagione dobbiamo continuare così non bisogna esaltarsi troppo non bisogna neanche demoralizzarsi quando perdiamo è solo l'inizio del campionato e dobbiamo adesso cercare di fare i più punti possibili prima della sosta ragazzi per oggi è tutto grazie per avermi ascoltato e come al solito se vi piace il canale non esitate ad abbonarvi non dimenticate di lasciare un bel like e alla prossima ciao grazie per avermi ascoltato